Tre cardinali e gran parte dei vescovi toscani domani a Vallombrosa per gli 80 anni di Monsignor Luciano Giovannetti, vescovo emerito di Fiesole, originario di Civitella della Chiana, già vescovo ausiliare di Arezzo Cortona Sansepolcro, oltre che rettore del seminario a Retino nel 1963 a soli 29 anni. Giovannetti presiderà la messa alle 11 nella Basilica di Santa Maria Assunta, concelebrata tra gli altri dai cardinali Giuseppe Betori, Silvano Piovanelli e Gualtiero Bassetti. Nel pomeriggio presso l'abbazia Vallombrosana è prevista la presentazione del libro Nella luce di Cristo, che raccoglie le lettere pastorali e le principali omelie di Monsignor Giovannetti nei lunghi anni in cui è stato vescovo di Fiesole. Nel volume è compreso un'ampia biografia e la testimonianza sull'ecidio di Civitella, a cui Giovannetti, allora chirichetto di nemmeno dieci anni, scampò per miracolo. Nel mese di maggio il nostro parroco, radunando noi ragazzi, aveva detto quando io sarò morto desidero che uno prenda il mio posto. Questa frase di Perlino mi colpì molto, ma dopo aver visto il suo gesto eroico al quale io ho partecipato lì in chiesa in cui mi grilava prendete me e lasciate libero il mio popolo e ho pensato forse sono chiamato a prendere il suo posto. Allora avevo dieci anni, poi questa cosa si è maturata in me e ho capito che il Signore mi chiamava a prendere il suo posto, così sono alimentato a prete. I festeggiamenti a Vallombrosa per gli 80 anni di Monsignor Giovannetti si concluderanno con un concerto in suo onore eseguito dalle corali Santa Cecilia di Roro Ciuffenna e San Nicolò di Radda in Chianti.